I luoghi colpiti dal sisma del 1968 nel territorio belicino della provincia di Agrigento, questo interessante convegno dal tema analisi e prospettive anche degli architetti che si svolgerà il prossimo 7 aprile a Santa Margherita del Belicio, un luogo sicuramente storico per la nostra provincia. Come mai questa iniziativa proprio lì? Il nostro consiglio dell'ordine degli architetti, sin dal suo insediamento del luglio dell'anno scorso, ha istituito una commissione, la commissione ricostruzione, per parlare dei luoghi colpiti dal sisma, per analizzare gli aspetti positivi e negativi della ricostruzione ed è questo l'argomento fondamentale del convegno che faremo il 7 aprile. Devo anche dire che nel parlare di rigenerazione opano, nel parlare di riqualificazione dei centri storici, sicuramente questo convegno, ci saranno tanti argomenti di cui possiamo approfondire, perché un luogo colpito dal sisma è uguale a un centro storico abbandonato, con una differenza che sicuramente nelle condizioni dei fabbricati che non sono diruti. Ma la politica, la tipologia di intervento potrebbe essere similare. E su questi aspetti che noi già da molti mesi abbiamo fatto un percorso con diverse amministrazioni della provincia di Agrigento, vorremmo creare un modello di intervento, un modello di intervento per i nostri centri storici della provincia di Agrigento, per i piccoli centri di cui è dotata la nostra provincia, per far sì di creare un documento da portare al Congresso Nazionale degli Architetti del 5, 6 e 7 luglio. Sono onorato della partecipazione del Presidente Nazionale degli Architetti, sono onorato della partecipazione anche dell'Università. Questo evento è dedicato ai sindaci del belice della provincia di Agrigento. Ci saranno gli imprenditori e su questo un ringraziamento particolare lo devo dare da una parte a Sicindustria, ma dall'altra parte all'amico Presidente Carmelo Salamone, che ha anche contribuito fattivamente all'organizzazione di questo evento. Presenteremo anche il Presidio di Protezione Civile perché nel pomeriggio del 7, perché i volontari di Protezione Civile oggi stanno lavorando benissimo in tutta la provincia di Agrigento, hanno lavorato benissimo e va tutto il nostro ringraziamento nelle zone colpite al terremoto del centro Italia. Sarà un'ottima occasione per verificare quelli che sono stati gli effetti prodotti dal terremoto del 68 sulla comunità bellicina, quindi ci confronteremo a partire da quelle che sono state le scelte adottate dal punto di vista urbanistico e architettonico, scelte che hanno puntato soprattutto sulla realizzazione di opere di architettura e di arte contemporanea che avrebbero dovuto fare da traino per una ricostruzione non soltanto fisica ma anche socio-economica e culturale. Diciamo che l'emblema di questo tipo di ricostruzione è sicuramente la città di Gibellina, che è stata ricostruita a 20 km di distanza. Però oggi noi dopo 50 anni possiamo dire che questa idea si è rivelata come un'utopia, una vera e propria utopia, quindi diciamo è stato un fallimento e sappiamo anche quali sono le ragioni. Le ragioni sono da ricercare a un mancato confronto con i cittadini che non hanno mai sentito propri, non c'è quel senso di appartenenza per i nuovi luoghi dove sono nati i nuovi quartieri e talvolta anche le nuove comunità, come nel caso della stessa Gibellina, nel caso di Montevago per parlare dell'Agrigentino, Sala Paruta, Poggio Reale e così via di seguito. Grazie a tutti.